ciao a tutti oggi vi presento il giracolore di raffaele cesano uno strumento davvero meraviglioso inserisce il disco di carta nell'apposita sede esistono dischi di diverse misure io ho scelto questo per oggi e sto usando degli acquerelli come vedete è molto semplice molto immediato il risultato molto piacevole da usare si possono usare sia i colori acrilici pennarelli tutto quello che che vi suggerisce la fantasia questo è il risultato e questi sono gli altri giracolore che ho fatto oggi ciao